I libri che mi porto di più con me, delle mie prime letture, è una bella domanda. Adesso potrei dirti quelli che ora mi ricordo, ma certamente cambiano queste memorie nel corso del tempo. Io mi ricordo un'edizione bianca e arancione dei ragazzi della Via Palla. Quello è stato uno dei libri dell'infanzia che mi hanno proprio cambiato il tipo di lettura, mi ha emozionato tantissimo. È il libro che mi leggeva mia madre quando ero piccola ed è Pinocchio. E adesso c'è, adesso, da un bel po' di anni, c'è la versione di Roberto Innocenti che è bellissima in questa toscana. Questo Pinocchio toscano è bellissimo. La prima immagine che mi viene è di me che leggo Il vecchio e il mare seduto su una vecchia poltrona fuori a casa di mia nonna. Una lettura molto appassionata di questo libro in un momento così per me. L'incontro con questo uomo sul mare che fa i conti anche con la sua solitudine in quel momento ma un grande contatto con se stesso e quindi è un'occasione anche per me di mettermi in contatto poi con me stesso attraverso la storia di qualcun altro. Non so se ho veramente un libro che ricordo più di altri. Di sicuro ricordo un'enciclopedia che era la ciclopedia del tesoro, tale si chiamasse, e c'erano le fiabe di Andersen, c'erano molte immagini, quindi non c'è dubbio che già avere l'illustrazione, perché non tutti i libri avevano l'illustrazione e quindi l'illustrazione unita al testo era una cosa che mi tirava moltissimo. E poi ho veramente nascosto i fotoromanzi delle cameriere che passavano per casa, ma perché no? Sono un po' come gli argoni di oggi. Ma i libri che ho letto da ragazzo erano un po' casuali perché non è che avessi una grande preparazione, non esistono le biblioteche, non avevo molti libri in casa, anzi pochissimi, però un libro che mi ha illuminato da ragazzo, un libro abbastanza sconosciuto poi, è Michele Strokoff di queste avventure, Giulio Verne, in cui il messaggero dello zar doveva portare un messaggio, questa cosa mi è sempre sembrata bellissima, che ciascuno di noi ha un messaggio da portare, poi lui era molto bello e ricco. Poi ho visto che ci sono libri forse più adatti a quell'età, per esempio i libri di David Grossman mi sembrano bellissimi e quando li ho letti da adulto ho pensato che mi sarebbe piaciuto i bambini a zig zag o qualcosa per cui correre, sono libri che mi sarebbe piaciuto leggere quando ero un adolescente, per cui se devo pensare a quelli che ho letto io da adolescente devo citare quelli, se devo consigliare quelli che vorrei leggere oggi da adolescente o che un adolescente oggi potrebbe leggere, ci sono questi libri di David Grossman. Però dovete sapere che ogni libro ha un valore in sé, io sono sempre imbarazzato a consigliare perché ogni libro che si prende in mano è un'avventura che si apre, quindi lasciamoci andare alla libertà della scelta e anche al piacere della casualità, aprite un libro e troverete dentro qualcosa che parla di voi a voi.